ecco pochettò carissime e fantastiche perché devo dire allora partiamo subito dalla yom yom e che parla di qualcosa di importantissimo della routine della giornata e di un ebreo che inizia appunto non sappiamo con la manifestazione di gratitudine verso a scampo il famoso modelli sono in modelli nefaneca dove ti ringrazio previvente per avermi dato l'anima e questo si fa come abbiamo anche studiato appunto sondrin appena si apre gli occhi prima ancora di lavarsi prima ancora della nitila chiadaim quando abbiamo l'impurità che ancora attaccata a noi che sappiamo che durante la notte si concentra nelle mani perché facciamo la nitila allora e questo come mai perché fanno una preghiera prima di purificarsi di liberarsi appunto dell'impurità notturna perché come dice appunto qui da yom yom oggi fantastico che tutte le impurità del mondo non possono intaccare il moderni dell'ebreo e può avere delle mancanze in una cosa in un'altra ma il moderni rimane intaccato e questo è molto forte e molto potente come insegnamento ma lo facciamo detto ciò passiamo subito al fumas e sono l'altro ok allora poi ricordate ma cosa dopo probabilmente ok allora oggi comunque è più breve allora vado in parte da ragazze dunque siamo all'oasi di l'imm dunque arrivano all'imm ieri abbiamo fatto la sia sheer dunque la attraversata straordinaria e con tutti i miracoli annessi e qui arrivano dove c'erano dodici sorgenti d'acqua non ci credo rù dove sei se al lavoro se a casa dove sei al lavoro ma non al gatto ah ok dunque qualcosa ci puoi seguire sì metto metto sì sì certo certo non ti preoccupare fantastica noi siamo felicissime di vederti ecco valeva la pena il ritardo eh c'è sempre un vantaggio in tutto in tutto c'è un vantaggio carissima siamo a Hamishira quinta chiamata e siamo arrivati all'oasi di Elim ecco per 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 allora riprendo quando arrivarono a Elim dove c'erano dodici sorgenti d'acqua appunto che corrispondono alle dodici tribù settanta palme che come dice Rashi corrispondono ai 70 anziani in senso di saggi ovviamente perché ogni volta che parliamo di anziani nella Torah si intende i saggi e si accampano lì vicino all'acqua allora seguitemi vai Raffet com'è andate cercate di leggere com'è vai a voi e l'ima vai a voi e l'ima vai a voi e l'ima ve sciam shtem esre e not maim ve sciam shtem esre e not maim e not maim ve sciv im temarim ve sciv im temarim vai a chanu sham al am maim vai a chanu sham al am maim vediamo Rashi che si chiam una riga shtem esre e not maim 27 che neghe di utbeć vattim nisdam nulahem dunque appunto furono predisposte per loro in corrispondenza alle dodici tribù ve sciv im temarim invece 70 palmizi corrispondenti ai 70 saggi zaken letteralmente vuol dire anziano ma ovviamente avevamo già visto che nel senso di saggio allora velocissima faccio i primi psuchim e poi sento rachai allora si mostrano da lì l'intera comunità dell'Israel giunse al deserto di Sin che si trova tra lì e Sinai ed era il quindicesimo giorno del secondo mese cioè secondo la Torah primo mese lo sappiamo è Nisan dunque secondo me dunque si riferisce a Yar dalla loro uscita dall'Egitto perché è ricordato di Rashi particolarmente il giorno di questa tappa perché erano finiti i rappovigionamenti che avevano portato con sé dall'Egitto ebbero bisogno appunto arriva qui la necessità della manna questo per informarci che cosa che dai residui della pasta preparata in Egitto avevano consumato 61 pasti ciao Rossella carissima fantastiche sì la manna cominciò a scendere il 16 di ari dunque qui siamo al 15 lì domani il 16 era il primo giorno della settimana come indicato poi nel trattato di Shabbat 2-3 veloce nel deserto tutta la comunità di Ministrae si lamentò con Moshe Aron perché le scorte di pane erano terminate e dissero se solo fossimo morti nella terra d'Egitto per mano di Hashem quando stavamo presso la pentola di carne e mangiavamo pane a sazietà insomma invece voi ci avete portato dunque si rivolgono a Moshe Aron ci avete portato in questo deserto per far morire di fame tutta questa assentea e di nuovo vi ricordate abbiamo analizzato l'approccio di quando si trovano i ministri di Israele in difficoltà ti ricordi bene Rahel no? non l'avamo parlato e ancora l'approccio non è quello giusto come vediamo e questo adesso questo per quanto riguarda i primi trepsuchim che adesso vi leggo velocemente poi sentiamo Rahel e concludiamo il Humash allora questa pentola di carne pane a sazietà non so se mi spiego forse c'era anche qualcos'altro no? in Egitto no preferiscono ricordare appena hanno fame cosa di cosa si ricordano? che mangiare avevamo se non altro in Egitto poi tutto il resto no? anche qui l'ottica umana oggi abbiamo appena detto nella Yom Yom cos'è la prima cosa che diciamo la mattina? apriamo gli occhi ringraziamo siamo riconoscenti questa è anche prima della Nettida che andare perché veramente nella vita è basilato e vai Rahel dunque da quattro da quattro a sei perché facciamo velocemente un paio di Rashi Aschem disse a Moshe ecco io farò piovere per voi pane dal cielo ogni giorno le persone usciranno e raccoglieranno solo la quantità necessaria per quel giorno in modo che io possa metterli alla prova e vedere se seguiranno le norme contenute nel mio insegnamento oppure no di venerdì quando prepareranno la mamma da portare raccoglieranno la stessa quantità degli altri giorni ma quando la misureranno si accorgeranno che sarà il doppio di quanto essi raccolgono ogni altro giorno Moshe insieme ad Aaron disse a tutti i figli di Israele in seguito alla vostra villana richiesta di carne questa sera questa sera con l'arrivo delle quaglie voi capirete che non siamo stati noi ma è stato Aschem a farvi uscire dalla terra d'Egitto voi vi lamentate contro di noi abbiamo visto quello che vi ho letto prima io a chi si sono lamentati a Moshe Aron perché ci avete fatto uscire dall'Egitto lì che avevamo la carne e il pane eccetera eccetera allora attenzione non siete all'indirizzo giusto tra virgolette no? perché appunto come dice Rashi non siamo noi che vi conduciamo ma è Aschem che vi ha condotto perché è lui che vi procurerà anche le quadri dunque al mattino invece continuo adesso ancora un paio di Tsukim al mattino invece al mattino invece nell'elegante modo in cui presenterà la manna vedrete la gloria di Aschem di Aschem a indicare che egli ha udito le vostre lamentele contro Aschem per la mancanza di pane e che queste le ha giudicate corrette ma che importanza abbiamo noi perché voi dobbiate indurre il popolo a protestare contro di noi allora Moshe disse Aschem vi darà della carne da mangiare alla sera e una quantità di pane fino a saziarvi al mattino Aschem ha sentito le vostre recriminazioni quelle quali voi inducete anche altri a lamentarvi di lui ma noi che responsabilità abbiamo? vedete qui è molto sottolineato più volte no? anche prima non siamo noi noi siamo solo da tramite è lui che vi ha fatto uscire è lui che vederà la manna alle qualvie e cioè è inutile che ci addossate tutte le responsabilità le vostre lamentele appunto non sono contro di noi ma contro Aschem e qui un insegnamento fortissimo cioè quando voi andate contro di noi non andate contro di noi voi andate contro Aschem nel senso se facciamo un po' una furbata o ci lamentiamo non con un altro Aschem contro di voi no assolutamente no perché noi tutto quello che facciamo noi nel senso è solo e soltanto volontà divina e dunque vediamo allora qui parla abbiamo visto che vi ha parlato della manna nel Pasuk 7 che non ve la darà con ampia disponibilità di Cerashi perché non gli avete chiesto una cosa essenziale il pane che avete chiesto è una vera necessità perché senza pane non si può vivere come sappiamo per cui quando scenderà il mattino vedrete di Cerashi la gloria che irradia la disponibilità di Aschem e che è anche indice del suo amore al mattino avrete il tempo necessario per prepararlo e questo pane sarà posto come in un cofanetto protetto sopra e sotto dalla rugiada ok e invece l'ultimo Pasuk che hai letto 8 allora carne ok cosa chiedono qua un attimo la carne ok allora allora non da saziarvi perché in realtà qui abbiamo una regola molto importante di comportamento ancora una volta se hai un problema se hai una richiesta c'è modo e modo di dirlo adesso un altro insegnamento basilare una regola di comportamento che non si può mangiare carne fino a saziarcene cioè non ci si può ingozzare in altre parole perché Aschem fece scendere pane al mattino e carne alla sera perché avevano chiesto il pane avanzando una richiesta essenziale e necessaria come abbiamo detto prima perché il pane è vitale in quanto una persona appunto non può vivere senza mangiare pane mentre la richiesta di carne non era giustificabile primo perché avevano molte bestie come vi ricordate quando sono usciti dall'Egitto e inoltre avrebbero potuto benissimo sopravvivere senza carne cioè non era c'è la basilare pertanto di deloro la carne la sera dice Rashi quando ciò avrebbe potuto causare il loro disagio cioè esaudì la loro richiesta in modo loro non favorevole quella della carne e allora conclude Sandrine che ha un altro Kumash però va bene perché qui non c'è Rashi ultimi due Psukim Moshe disse ad Araun di a tutta la congregazione dei figli di Israele avvicinatevi al cospetto di Hashem poiché Eli ha sentito le vostre lamentele mentre Araun parlava a tutta la congregazione dei figli di Israele essi si volsero verso il deserto e la gloria di Hashem apparve nella nube fantastico che bei Psukim allora leggiamo dunque insieme da da quattro nel doccemente va yomer Ilma, vi ricordate, Khoach, ma, Khoch, ma. Ecco questo concetto, quello ritroviamo da Moshe Aron. Va'yomer Moshe, bittet Adonai, l'achem, va'arab, bassar, l'achol, v'alichem, bavokar, esbo, bishmo Adonai, tlumotekem, asher, attem, malimim, alav, edimo, avu, v'nechnu, ma, lo'alaino, tlumotekem, ki, alla Adonai. Va'yomer Moshe, l'Aron, emor, e kho'adad Nisrael, kirvulifne Adonai, kishamah, tlumotekem, va'yiker davvero Aron, kho'adad Nisrael, baiifnu, elamidbar, ve'yene, kho'adad Nisrael, nirabea na. Chazak, chazak, ragazze, ho detto che sarò breve. Ok, fantastiche. Adesso, velocemente, passiamo al Tania. Allora, vi faccio, per chi, appunto, è di fretta, giustamente, allora, vi, vi faccio anche una sintesi, un attimo, prendiamo intanto il Tania in mano. Ok. Allora. In realtà, oggi ci spiega come è possibile attuare tutte le mizvot, sia positive che negative, positive nel senso quello che dobbiamo fare, negative sono le cose che dobbiamo evitare di fare, ed è una mizvot di non fare. Con la forza dell'amore, questo amore di cui abbiamo parlato più volte, questo amore latente, innato, che si trova nel cuore di ogni prima. e le due prime di brot, che vedremo settimana prossima, i due primi di comandamenti, io sono a Shem Toonio, includono tutte le mizvot positive, e invece quelle, lo e le ha, non avere altri dei, tutte le mizvot negative. per capire come tutti questi peccati sono legati all'idolatria, alla Vodasara, bisogna capire prima il concetto dell'unità con Hashem, che Hashem è unico anche dopo aver creato tutti i mondi e tutte le creature, senza assolutamente nessun cambiamento da parte di Hashem. Cambiamento per noi, non esistevamo, adesso esistiamo, ma se quanto umanamente si possa capire, per Hashem non vi è stato nessun cambiamento. Questo detto in breve, adesso volevo dirvi anche che ieri, che era un po' lungo, allora abbiamo parlato, vabbè, no, perché vi avevo detto che avrei fatto quello che ci mancava di ieri, no? Avrei recuperato, a parte che Damocca e Rifka Rossella è con noi e che ogni momento io dico, adesso la saluto, adesso la saluto Rossella e Rifka Rossella, carissime, e che non volevo disturbare. No, no, fantastica, è che appunto siccome Rachel anche deve andare, siccome oggi sono purtroppo, come vi ho spiegato, in ritardo, allora volevo ecco essere veloce. Volevo anche dedicare la lezione al papà di Perla Joseph e Giuseppe, no, David Ben-Joseph se non erro, e dunque poi le lo richiedo e che oggi proprio è la sua la sua dipartita, infatti ci siamo visti ieri sera al tempio che era venuta al tempio per la ricorrenza del padre, no? Per chi non sapesse che non servava Perla che ha avuto il bimbo, se vi ricordate, Baruch Hashem con come si direbbe da noi. Ciao carissima Francesca, anche a te e saluti prima di riprendere Tania. Allora, cosa volevo? Ok, sì, sì. Ok, dunque siamo ecco il nome esatto comunque Elia Neniossef che è appunto papà di Perla come si dice? Ecco Perla, vedete? Ciao Perla! Perla? Ciao, eccomi! Carissima! Oggi ho iniziato in ritardo ma ecco volevo che partecipavi con noi anche qualche minuto che ti sentivano le ragazze che abbiamo appena appunto dedicato la lezione a Elia Ben Yosef Giuseppe che possa avere tantissima da te da tuo fratello da suo nipotino amore e da tutti voi grazie amore mio grazie in salute in gioia ammen in Parnassà in Cilombait tutte le brakhot che vi guardi da dove si trova adesso nei cieli allora noi abbiamo fatto la Yom Yom studiato la Yom Yom studiato il il pardon il Humash con Rashi e oggi velocemente vi ho fatto anche la sintesi adesso vediamolo sul testo dunque è noto che i precetti le munizioni riguardo che riguardano l'idolatria di Cilbalatania oggi nel capitolo venti undici di Shvat giorno della ricorrenza del papà di Perla allora dunque tutti i precetti le munizioni che riguardano l'idolatria sono contenuti nei primi due comandamenti come avevo accennato che rappresentano il fondamento di tutta la Torah infatti il comandamento io sono contiene tutti 248 precetti positivi mentre non avrai altri dei contiene 365 proibizioni perché precetti negativi nel senso di proibizioni e questo è il motivo per cui abbiamo udito da Hashem direttamente queste due prime primi comandamenti direttamente appunto da Kadosh Barufu e come dicono i nostri saggi sono un compendio in realtà di tutta la Torah e per spiegare dice Bala Tania chiaramente questa questione dobbiamo fare innanzitutto un breve riferimento al problema dell'essenza dell'unità di Kadosh Barufu che è chiamato come sappiamo uno e unico e tutti credono che Hashem è il solo come diciamo ogni mattina nella Tfilah come prima che il mondo fosse stato creato quando non c'era proprio nulla così come tu fosti medesimo prima che il mondo fosse creato tu sei medesimo da quando il mondo è creato che lo diciamo dunque nella Tfilah la mattina ogni mattina e questo significa esattamente il medesimo cioè senza nessun cambiamento come scritto poiché io Hashem non sono mutato lo vediamo in Malachi 3 capitolo 3 per success infatti questo mondo è del pari tutti i mondi superiori non hanno causato alcun cambiamento nella sua benedetta unità dal fatto di essere stati creati ex nilo proprio come Hashem era solo uno e unico dopo la loro creazione poiché prima anche dopo poiché accanto a lui ogni cosa è nulla senza esistenza e contenuto perché noi ci crediamo esseri creati umani no? però in realtà rispetto a Kadosh Baruch Hu dire nulla dire un niente è già troppo allora due minuti ragazze vediamolo sul testo visto che vi ho fatto sia la sintesi sia letteralmente e siccome è breve ne approfitto perché lo vediamo sul testo dopo altri due minuti pagina 50 capitolo 20 del taglio cercate adesso di capire adesso ve l'ho spiegato praticamente due volte di capire admi mia vuole sentire e adesso mamma perla ci puoi leggere un pereg di Tehillim così lo fai per in unishmat tuo papà perché è importante che tu da figlia non puoi fare il Kaddish però puoi fare una preghiera e una allora siamo al oggi Tehillim capitolo capitolo sessanta oggi abbiamo i capitoli sessanta sessantuno sessantadue sessantatré sessantaquattro e sessantacinque questi sono i capitoli che dovremmo leggere oggi ok allora sì sì allora aspetta ti trovo vediamo qual è il più più breve così ti faccio lo sconto vabbè più o meno sono uguali in realtà più o meno uguali vai vai col primo dai fai tu il primo devo prendere il luinishmat e il luinishmat il luinishmat e lì ben Giuseppe e Yosef ben Giuseppe e poi devo andare a prendere la mia ah il Tehillim il Tehillim scusami non ce l'ho il libro il Tehillim ah ok mentre tu fai così non perdiamo tempo leggo io il primo poi tu leggi il prossimo ok l'amnazia chashushan edut mi chale david l'elamme pehazotto e taramrara e taram tzova v'yishov yoha v'yichet t'dom v'gim melech 12 o' elohim z'nachtano f'r'cstano edom v'nachtano 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voglio darti il 63 che è breve. Ecco, sei messa nel muto e noi non la sentiamo. Va bene. Allora, abbiamo ancora santa 3, santa 4 e santa 5 per oggi. Allora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi avevo spiegato più volte... Più volte che Perla non ha trovato il Teilin, come avete visto nel messaggio, dunque leggo io per lei, faccio le veci. Il fatto di leggere i Teilin insieme è, come l'avamo studiato anche nella Yom Yom, è qualcosa di molto molto più forte e più potente che leggerlo da solo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.